Trasformo dei capi di abbigliamento in emozione da parte di chi li vede, di chi li prova, insomma. Una vetrina che non ha movimento è una vetrina che resta prevedibile. Le luci sono un persuasore occulto, secondo me, in una vetrina. Non sono un fatto che uno riscontra come dominante, però sono quel fattore che fa uscire la vetrina in una maniera esplosiva. Capire dove si può arrivare, quali sono gli effetti che si possono ottenere. Sono convinto che le luci possono cambiare degli scenari, possono far diventare bello un ambiente oppure renderlo sottotono. Quindi per me la luce è un fatto fondamentale.